È dura comunque, Max, quando sei un professionista come noi, lottare. Non è per fare gli esterofili, né sputare sul paese, perché è un bel paese, però avere a che fare con sempre i soliti meccanismi in cui esce un disco ti devi frustrare, perché non sai se la radio ti passa, perché arriva uno che canta le barzellette su YouTube e ti sorpassa, perché arriva uno che non fa rap, cioè non fai pop, però per il media fai pop e quindi copre quel tuo spazio. Poi ti faccio esempio, per andare alla manifestazione dove cantano tutti e andare a suonare alla fine, dopo un po' ti scassi, se mi permetti, il francesismo, capisci? Quindi la missione è non avere missione, fare musica bella.